C'è un respiro di sollievo tra i lavoratori precari dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Questa mattina infatti è stata pubblicata la delibera per la proroga dei contratti fino al 30 giugno. Dopo le solicitazioni della funzione pubblica CGL che con i lavoratori attraverso un presidio aveva sollecitato una continuazione per i settatta contratti scadenza oggi, è arrivata una risposta. Era stato il sindacato a chiedere di fare chiarezza perché con il covid in ripresa la mancata proroga sembrava un rischio non solo legato all'occupazione dei lavoratori ma alla sicurezza sanitaria dell'intera comunità. Di fatto i casi di contagio sono in crescita in tutta la provincia e numerosi sono anche i casi di covid tra il personale sanitario. Per questo non sembrava utile interrompere i rapporti di lavoro di oltre 70 lavoratori in un momento ancora particolarmente caldo per la sanità e in vista soprattutto di Pasqua. E oggi si è raggiunto l'obiettivo sperato. Ma non basta come ha fatto sapere questa mattina il segretario provinciale della funzione pubblica CGL Antonio Capezzuto che si dice già lavoro per le ulteriori proroghe e l'avvio dei processi di stabilizzazione per i lavoratori in possesso dei requisiti Madia e dei 18 mesi al 30 giugno. Ovviamente non siamo soddisfatti perché la Regione Campania, anche come dichiarato dal governatore De Luca sabato scorso al congresso della FNOPI, ha dato indicazioni per le proroghe dei contratti fino al 31 dicembre 2022. Ovviamente noi chiediamo che questa indicazione della Regione Campania venga subito attuata e ovviamente poi chiediamo che progressivamente vengono stabilizzati quegli operatori che hanno diritto alla stabilizzazione avendo raccolto i requisiti dei 36 mesi per la legge Madia oppure chi avrà al 30 giugno 2022 i 18 mesi così come previsto dall'ultima legge di bilancio. Quindi questa proroga ovviamente dà continuità al lavoro di questi operatori che hanno combattuto in prima linea, non ci soddisfa e quindi la battaglia della CGL e del resto della CGL sarà proprio quella di portare il più avanti possibile questi lavoratori appunto per consentirgli la stabilizzazione futura.